nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen o spirito santo amore del padre e del figlio ispirami sempre ciò che devo pensare ciò che devo dire e come devo dirlo ciò che devo tacere ciò che devo scrivere come devo agire e ciò che devo fare per cercare la tua gloria il bene delle anime e la mia santificazione o gesù è in te tutta la mia fiducia nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen qui celebriamo domenica l'ascensione di nostro signore gesù cristo dove l'umanità di cristo inalzata alla gloria divina diventa modello per la nostra umanità sempre bisognosa di purificazione ma anche se in cammino verso l'incontro con dio ascoltiamo il vangelo secondo marco il capitolo 16 versetti 15 20 in quel tempo gesù apparvi agli undici e disse loro andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo ad ogni creatura chi crederà e sarà battezzato sarà salvo ma chi non crederà sarà condannato questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono nel mio nome schiacceranno demoni parleranno lingue nuove prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno imporranno le mani ai malati e questi guariranno il signore gesù dopo aver parlato con loro fu levato in cielo e sedette alla destra di dio allora essi partirono e predicarono dappertutto mentre il signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano questo brano conclude il vangelo di marco sappiamo che questo testo ha creato un sacco di problemi probabilmente ci dicono gli esegeti e non abbiamo motivo per dubitare che è stato aggiunto in un secondo momento ho fatto alcune considerazioni che troverete sul testo scritto potremo appunto però direi per così per rifletterci meglio sopra dividere in tre momenti questo brano l'annuncio come gesù chiede di annunciare il vangelo le i segni i segni che accompagneranno questo annuncio e poi conseguentemente però la presenza di gesù nella chiesa in mezzo ai discepoli agli annunciatori del vangelo ecco l'anelito di gesù è a andare in tutto il mondo ad ogni creatura come dice il versetto 15 il vangelo è da proclamare l'idea è proprio l'idea antica dell'araldo questa è l'idea del verbo a meno così come ci è stato trasmesso un annuncio però al quale annuncio non possiamo rimanere indifferenti o si crede o non si crede e ci sono due conseguenze diverse ovviamente sarà salvato o sarà condannato c'è una responsabilità in base alla scelta effettuata la salvezza è proprio l'idea di essere preservati salvati gesù cristo è il salvatore è colui appunto che porta la salvezza che con la sua morte ci ha salvati quindi è un concetto molto importante dal punto di vista della della teologia l'adesione o meno alla persona di cristo determina la vita dell'essere umano sono appunto possibili le due conseguenze salvezza guarigione o condanna giudizio e questo quindi sottolinea l'urgenza del compito dei missionari di annunciare un messaggio di salvezza che però pone delle responsabilità ben precise agli ascoltatori come scrive un commentatore usando parole moderne si chiama orsatti questo commentatore cristo non è un optional bisogna decidere non si può decidere liberamente io sì o no e non cambia niente vediamo quali sono i segni della salvezza annunciata come sono stati descritti da gesù sono i versetti 17 e 18 la cacciata dei demoni parlare lingue nuove il prendere in mano i serpenti bere del veleno e imporre le mani ai malati ecco la cacciata dei demoni sottolinea questo questa dimensione della lotta al male male da allontanare è una caratteristica dei discepoli missionari lo vediamo anche nel vangelo di luca quando gesù invia il 72 per la prima missione parla appunto di satana che viene che cade dal cielo come una folgora una folgora scusate e gesù dà il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni il tema del serpente importante verrà poi ripreso da barco poco poco più avanti la presenza del demonio nella storia dell'umanità accompagnerà sempre la missione della chiesa nel mondo spesso nella nostra cultura moderna relativizziamo questo concetto no pensiamo demonio non esiste non se ne parla eccetera ma il vangelo ha continui riferimenti al demonio quindi credo che sia serio non relativizzarlo ma rifletterci appunto seriamente senza superficialità banalità o viceversa esaltazioni poi parlare lingue nuove il vangelo è un lieto annuncio quindi mi verrebbe da dire come si dice una lieta novella un qualcosa di nuovo una nuova lingua preferisco forse meglio dire il lieto annuncio perché il lieta novella è dall'idea di favola non è una novella come si raccontava a bambini o come mi hanno raccontato a me quando ero piccolo le novelle prima di addormentarmi le novelle sui ginocchi del nonno è un lieto annuncio il vangelo che porta una novità di vita a livello personale una novità di relazioni a livello sociale amatevi gli uni gli altri amate anche i vostri nemici ci dice il signore e poi ci dà anche un nuovo rapporto con dio lo vediamo nelle parole che gesù ci dice per esempio nella preghiera del padre nostro quando pregate dio chiamatelo padre una novità di vita appunto personale in relazione con i fratelli e le sorelle e anche nel nostro rapporto con dio questo una novità perché è sempre un andare oltre il nostro camminare verso dio potremmo dire appunto nella vera accezione della parola conversione un vero andare oltre questa è l'idea della nostra conversione non rimanere fermi in abitudini discorsi mode atteggiamenti ma sempre un andare oltre al di là di quello che è terreno potremmo dire nella metafisica per arrivare all'incontro con dio poi vediamo il rapporto con il male prima abbiamo visto la cacciata del demonio quindi scacciare il demonio adesso vediamo il rapporto con il male visto nella doppia simbologia del serpente e dei veleni direi il simbolo del serpente è qualcosa che danneggia la vita materiale prendere in mano i serpenti è un gesto molto pericoloso ora se è una biscia forse non so se si prende un morso e via se è un serpente velenoso il discorso cambia anche san paolo farà i conti negli atti degli apostoli al capitolo 28 farà i conti con una vipera sarà morso da una vipera poi la vipera ha fatto una brutta fine e lui si è salvato però direi il simbolo di prendere in mano i serpenti se il serpente è simbolo antico del male come sappiamo dal libro della genesi prendere in mano il serpente vuol dire prendere in mano i problemi affrontare le tentazioni affrontare il male con decisione è anche un modo di dire no prendere in mano qualcosa prendere in mano la nostra vita non vuol dire prendere in mano la vita la vita qui vuol dire prendere in mano con decisione le problematiche le situazioni affrontarle con decisione quindi qualcosa che va affrontato con decisione attenzione perché poi l'altro simbolo il veleno è invece qualcosa che danneggia la vita spirituale potremmo dire la vita interiore mentre il serpente è segno di un pericolo visibile che si può evitare se si vede per tempo il veleno è simbolo di qualcosa che corriamo il rischio di non evitare perché è invisibile si mescola insieme a qualcosa da mangiare o da bere e quando manifesta i suoi effetti è ormai troppo tardi da questo subdolo pericolo chiediamo la protezione divina il quinto segno la guarigione dei malati imporranno le mani a malati e questi guariranno è simboleggiato appunto attraverso la riconquista della salute attraverso l'imposizione delle mani però ecco più che riacquistare la salute il termine ancora più più bello direi più letteralmente più poetico letteralmente si tratta di ottenere il bene o ancora meglio ottenere il bello perché il testo tradotto in italiano con guariranno letteralmente dice avranno bello avranno buono con l'idea appunto del bello e del buono e nella bibbia si equivalgono se no se è bella e buona e viceversa ecco il mare il male sfigura la nostra umanità e la guarigione consiste nel tornare verso il bene verso il bello come ci ricordiamo dio aveva fatto la creazione la creazione era una cosa buona era una cosa bella l'imposizione delle mani sui malati simboleggia la discesa dello spirito santo che ricrea la condizione originaria della creazione fa tornare il bello e il buono dove invece è arrivato il brutto e il cattivo e non è un film di sergio leone brutto e cattivo è proprio l'idea appunto di contrapporre bello buono con brutto e cattivo questi due concetti si contrappongono ecco la presenza di gesù nella chiesa il terzo aspetto pur essendo elevato in cielo e gli garantisce la sua presenza gli apostoli dopo questa ascensione di gesù al cielo partirono ma letteralmente il verbo indica proprio l'uscita uscirono forse erano nel cenacolo al momento non si sa se si va a gerusalemme la collocazione dell'ascensione è da un'altra parte rispetto al cenacolo comunque la sensazione che fossero in un luogo chiuso perché il verbo greco indica proprio uscirono più che partirono certo per partire bisogna uscire ma mi piace la parola uscire perché riprende un concetto caro al nostro papa papa francesco quando parla di chiesa in uscita chiesa missionaria chiesa che porta una salvezza chiesa che porta una un lieto annuncio il signore è con i missionari con gli apostoli missionari perché dice agiva con loro e confermava con la parola la parola con i segni ecco agiva con loro è bello il concetto perché rende l'idea proprio di una sinergia si crea una sinergia di gesù con gli apostoli missionari nel mondo la consapevolezza che noi cristiani abbiamo con noi l'energia del signore se viviamo uniti con lui in più il signore conferma la parola con i segni rende stabile la parola annunciata la conferma la garantisce attraverso i segni i segni sono quelli che io ho interpretato in maniera simbolica anche perché se io dovessi prendere in mano i serpenti insomma lo so se bevo qualche veleno probabilmente ci lascio ci lascio la buccia ma dal punto di vista simbolico ecco questi segni che accompagnano e che io ho interpretato per la mia vita spirituale personale la lotta al demonio la novità di vita e le relazioni il male affrontato con decisione con forza grazie alla protezione divina e la bellezza e la bontà ritrovata chiediamo al signore che la nostra umanità purificata redenta rafforzata dai suoi insegnamenti dalla sua presenza sia una preparazione alla vita divina iniziando il percorso già da questa vita umana come chiediamo nella colletta della messa della solennità dell'ascensione esulti di santa gioia la tua chiesa o padre per il mistero che celebra in questa liturgia di lode poiché nel tuo figlio asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te e noi membra del suo corpo viviamo nella speranza di raggiungere cristo nostro capo nella gloria egli è dio e vive e regna con te nell'unità dello spirito santo per tutti i secoli dei secoli amen